ciao ragazzi grazie di essere qui come oggi oggi finalmente un nuovo video challenge se ti addormenti perdi sì ho cambiato look andrà a spiadirsi questo colore piano piano però lo adoro è anche leggermente in tinta con lo sfondo quindi adoro tutto ancora di più e ci ho dato anche un taglio bene per chi non sapesse in cosa consiste questo video challenge lo spiegherò subito intanto in questo video userò tre toni di voce diversi quello che sto usando ora è il soft spoken e lo userò solo in questa prima parte del video dopo nella seconda parte del video scenderò un tono di voce più basso come questo come questo come questo che sono i sussurri il whispering e poi scenderò ancora 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 fino ad arrivare a ciò che è definito inaudible inaudibile che è una cosa come quella che vi farò adesso ancora così capito questo era un esempio il primo il primo step è quello di rimuovere i pensieri perché se abbiamo troppi pensieri che ci hanno per la testa soprattutto negativi certo non potremo avere un riposo ristoratore rigenerante no non potremmo avercelo quindi prima cosa assolutamente dobbiamo rimuovere questi pensieri e poi cercherò di mettere anche delle frasi positive dei pensieri positivi con cui attormentarti serenamente dopo farò due o tre trigger non ho ancora deciso e alla fine ti offrirò una tisana e farò un breve conto alla rovescia per dolomire poi ti darò una buonanotte questo è il programma di oggi se questo video ti piacerà ricorda di mettere un mi piace per supportare il canale e per farmelo sapere e ti ringrazio cominciamo con togliere 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 tutti i pensieri dalla tua mente con te tutti 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 e li prendo proprio così con il gesto più semplice del mondo e senti che pian piano la tua mente si alleggerisce si alleggerisce si alleggerisce e tu diventi una persona più serena più tranquilla è assolutamente inutile portarsi le preoccupazioni della giornata durante il sonno non giova non vi giova quindi conviene insomma dedicare 5 minuti per resettare la giornata ed essere pronti a cominciare una nuova perché domani è un nuovo giorno pieno 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 di possibilità più alla prossima e più alla prossima e ancora prendo prendo un altro prendo vola 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 via e ancora prendo e vola via, senti come vola via e ancora prendo e via e via 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 e adesso invece voglio inserire nella tua mente pensieri positivi quindi domani è una nuova giornata puoi fare infinite cose, puoi scegliere cosa fare per renderti felice, per renderti una persona migliore sei intelligente, sei una brava persona, sei bella, sei bello, riguardatelo sempre sei unico, sei unico, sei speciale, sei speciale tu puoi tutto, basta volerlo tu puoi tutto, basta volerlo tu puoi tutto ora non ti preoccupare, pensa solo a dormire 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 d'accordo ok il primo suono che voglio proporti oggi è un suono che non facevo da tanto 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 tempo che so che vi mancava che so che vi mancava mancavano tanto 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 anche a me mancavano tanto 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 anche a me proviamo ancora un pochino di dolce di biscotto proviamo ancora un pochino di dolce di biscotto mancavano molto bene quando sono alava bosta E' molto felice perchè sta nevicando, è sera, sono circa le 10 e mezza di sera e c'è un silenzio commovente E qui quest'anno, quest'inverno non era mai nevicato, è nevicato veramente dappertutto, prende anche qui E io adoro la neve, amo la neve alla follia, mi dà un senso di pace, di tranquillità Dà anche, non so, rende silenzioso tutto, rende bello tutto, è magia, magia pura E spero davvero di poter andare in montagna quest'anno, anche solo due giorni Per poter vedere la neve bene e vederla sulle montagne alte che ne hanno raggiato nato Se ci pensate, le Dolomiti sono uno dei posti più belli al mondo Abbiamo la fortuna di avercelo a poche ore, in tutta Italia comunque ci si arriva in poche ore E sono uno dei posti più belli del mondo, per quanto mi riguarda Informazione di servizio per i gelatini Non li trovo da nessuna parte, li riconverai anch'io perché dopo un po' si perdono una croccantezza Ma non li trovo da nessuna parte Quindi se li trovi lascio i link qui sotto ma dubito Non so perché, sono finiti su Amazon E non li produce più una ragazza da cui li prendevo L'avevo presa anche da un sito e non c'è più questo squilio, meglio proprio Non lo so Adoro avere i capelli corti, molto comodo Si lavano e si asciugano un ottimo E restricorni un po' di carezzine con il gelatino un po' di pezzi Sì, non è vero. mi porto a vedere questo suono super particolare ovviamente non mi sono messo anche roma in gelatini c'è una macchia qui non si capisce e la hondo da qualche parte questa carta è la carta che proteggeva il mac l'avete ascoltata leggeramente nell'unboxing appunto del mio nuovo computer con cui tra l'altro mi sto trovando troppo bene e ho appunto questa carta e io trovo che in generale le fronte dell'apple abbiano dei pack meravigliosi e poi proprio anche i suoni siano stati studiati cioè tutto dell'unboxing è stato studiato per essere il più piacevole possibile compreso il suono di ogni suo componente perché alla fine le cose il bello delle cose è di queste cose insomma di lusso perché lei pure lusso sta anche nei dettagli e io vi avevo chiesto se voi fate che tenessi questa carta e avete risposto in molti nei commenti dicendo chiaro di quella e quindi eccola qui anche se non è ... è è è è è è è è è Alla prossima. Non capisco cosa l'abbia unto, mi sembra. Però effettivamente qui in mezzo nel mio studio ci arriva qualunque tipo di oggetto, quindi ci può stare. Alla prossima. Sono veramente tanto rilassato che sto tormentando. Perché sapere anche, perché lo so, che oggi saranno un ruolo, un rumore molesti o traffico perché se si copre il fuoco mi rilassa tantissimo. Siamo sempre in mezzo. Non so se puoi dare un fronte a questi trigger. Perché da una parte vorrei farvelo ascoltare bene, dall'altra non voglio annoiarvi. Penso dipende un po' dei gusti. Cerco sempre di trovare un equilibrio per il parlato e il suono. Anche cuore di trovare un po' di tutto. Anche cuore. Anche cuore. Anche cuore. grazie questo proprio credziano oggi è vero A presto. Grazie. Grazie. Magari è una persona che deve andare a lavorare, poverina, non lo so. Terzo, 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 trigger. Caracchere, sabbinato, che bello, dai, che bello, perché dal vivo, no, anche dal vivo, un po' mi sembrava più chiaro questo, più rosa. Perché veramente adesso così mi sembra più rosa, però a vederla così sono proprio affidati. Questo è un... non ricordo se è per la cucina, o per il viso. Non in caso non lo so, per l'essere di tutto. No. 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 questo stile nei colori, questa capacità di abbinamento i video non sono molto estetica lì, pleasant no? però oggi si dà ad esempio i video di Lori sono curatissimi da questo punto di vista sono curatissimi, però lui ci tiene un sacco ci sia abbinato alla perfezione si vede da una soddisfazione visiva incredibile dove mi sto ascoltando? che cosa? ti auguro, ti auguro anche buona fortuna alla fine della sessione se non ci sono se non ci sono se non ci sono Grazie a tutti. Sentite come cambia il suono? Sta molto girami da uno, è già un po' più lontano. Domandona, magari non aveva fatto il trentesimo minuto ma vabbè. A voi piace vedere i microfoni nel video? Nel senso vi piacciono nascosti come ora che sono qui e qui? Oppure vi piace vederli? Per me è indifferente. Se forse mi piace più vederli, però non questi. Tipo i ployer, di così mi piace vederlo. Non lo so, non lo so. Dipende forse anche dalla tipologia di video. Non lo so. Dipende forse anche dalla tipologia di video. Non lo so. Dipende forse anche dalla tipologia di video. Non lo so. Dipende forse anche dalla tipologia di video. Bene. Non lo so. Dipende forse anche dalla tipologia di video. Bene. 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 è arrivato, è arrivato, è arrivato il momento di offrirti una tisana e di abbassare pian piano ancora 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 di più il tono della mia voce e arrivare quasi a questo tono, un tono di semina. Allora, questa tisana si chiama sogno di leggerezza. è una tisana. È una tisana della mia vita. questa tisana. Queste si trovano in farmacia. è una tisana. E' descritta come delizioso incontro di finocchioni cemento. una piacevole miscela di semi caldi e specie aromatiche. trasmette il depore e la dolcezza di una carezza che scioglie la tensione addominale e lieve il gonfiore, restituendo una sensazione confortevole di leggerezza e agio. Ingredienti, semi di pinocchia, radici di leggrizia, fiori di anice verde, foglie di menta, semi di cumino e fiori di lamomilla. e adoro anche il bag, è bellissimo, è da collezione. In realtà, per restare estetica e liplacent avrei dovuto prendere sempre quella di questa marca maviana, però volevo cambiarla perchè l'avevo già mostrata quella. Allora, vedete che per mantenere, diciamo, l'aroma c'è questo tappino all'interno. Eccola qui. Se riesco a farvela vedere. Se riesco a farvela vedere. No? Sì, ci stavo riscendo a camera. Che bel suono. Eccola qui. È una roba molto, 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 molto intensa. E spero di vada, di piacere stasera. È la mia proposta però stasera, diciamo così. E va bene anche, magari, se si è fatto una cena un po' pesante, un po' abbondante, o magari con qualcosa che sapete che vi rimane un po' nello solo stomaco. Questo è perfetto. Però devo dire che io l'offro anche spesso, proprio come di sana, semplicemente piacevole. Perchè è molto, molto buona. E avendo menta, liquidizia, pinocchio, è molto, molto dolce, naturalmente. Quindi è proprio sì, un dolce, una coccola. Molto, molto buona. Per me poi l'estetica è veramente bellissima. Di questi poi si possono comprare le ricariche e metterli dentro. Mi sono promessa che prima o poi farò la collezione di tutti questi topicini qui. Ok. Adesso è arrivato il momento dell'acqua della rovescia. E poi è della buonanotte. Spero che tu abbia raggiunto già adesso uno stato di rilassamento elevato, uno stato di rilassamento profondo, profondo, profondo. E spero che dopo questo, quando la rovescia tu rischierai a tutti uno stato ancora, 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 ancora più profondo. Ecco qua, ancora, 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 ancora più profondo. Quindi 20, 20, 20, 19, 18, 18, 18, 18, 18. 16 16 16 15 16 16 16 16 17 17 18 19 20 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 21 22 23 24 25 25 25 25 26 23 23 23 24 25 25 26 27 28 28 28 25 25 25 26 27 27 28 29 30 30 30 30 30 30 30 30 31 32 32 33 30 30 31 32 32 32 33 32 33 33 34 36 37 37 37 38 38 39 39 39 39 39 39 40 40 40 41 42 42 42 42 41 41 42 42 42 42 42 42 42 42 43 42 43 43